che cosa succede punto di domanda una domanda ma che cosa succede dove dove e perché perché allora i mezzi di informazione esistono ma quali informazioni vengono divulgate selezionate e commentate chi è esperto conoscitore dell'informazione sa che la stessa identica foto la stessa foto cambia di significato a seconda di cosa c'è scritto sotto la foto le stesse immagini televisive cambiano di significato dipende il significato dal commento di quello che parla ma che cosa succede dove esempio c'è una pandemia che in realtà è epidemia però la parola epidemia più conosciuta pandemia è stata inserita al posto sono parole che vengono dal greco pan vuol dire tutto demos de mia popolo cioè coinvolge a tutti non è vero che coinvolge può coinvolgere tutti guardiamo le guerre molti si chiedono la terza guerra mondiale allora hanno detto che la terza guerra mondiale è la pandemia ma non è vero perché non è una guerra è una malattia contagiosa da cui qualcuno è guarito qualcuno ha avuto delle lesioni e qualcuno è morto magari dicono aveva anche delle altre malattie prima di essere contagiato ma perché lo chiamano mondiale ma perché dicono una guerra mondiale perché continuano a dire quando ci sarà la terza guerra mondiale le prime due guerre non sono state mondiali sono state internazionali cosa vuol dire internazionali che alcune nazioni o una contro tre o tre contro tre scontro tra varie nazioni non è che tutto il pianeta era in guerra no ci sono state intere zone di questo pianeta dove non c'è stata la prima e la seconda guerra mondiale poi chiaro che se qualcuno di una nazione va a combattere ma non vuol dire niente che va a combattere non è mondiale però per spaventare abbiamo usato la parola mondiale mondiale albert einstein disse io so come sarà combattuta la quarta guerra mondiale anche lui ha usato la parola mondiale con i sassi e bastoni e le frecce e l'arco perché pensava che la terza lui ha fatto questo ragionamento dopo il 1945 quella che chiamata storicamente la seconda guerra mondiale ma non è mondiale ma internazionale tra alcune nazioni perché pensava che la terza se ci fosse stata sarebbe stata atomica esplosione atomica però la domanda è ma in italia quante bombe atomiche ci sono provate a chiedere agli amici ai conoscenti la maggior parte delle persone dice nessuna e invece ci sono in alcune parti d'italia ci sono delle bombe atomiche pronte a essere usate contro il nemico generico nemico però ci sono però la gente non lo sa molte persone vivono nel raggio di 10 20 chilometri da un punto in italia dove sotto terra ci sono delle bombe atomiche che se saltano cosa succede se il famoso nemico buttasse una bomba atomica su un deposito di bombe atomiche oltre all'effetto della bomba atomica lanciata con un missile ci sarebbe l'esplosione sotterranea devastante delle bombe atomiche questi sono ragionamenti non so quindi che succede dove perché chi raccoglie le informazioni che vanno sulle copertine dei quotidiani o nei telegiornali chi? c'è qualcuno che seleziona le informazioni allora io penso che sia utile tenersi informati ma informati anche che succede nel tuo fegato nella tua milza nei tuoi polmoni nel tuo cuore nei tuoi organi nelle cellule del tuo corpo che succede? è importante capire che acqua beviamo? che aree respiriamo? quali polveri invisibili, sottili, chiamate? respiriamo perché? quindi la domanda che succede? che cosa succede? punto di domanda è giusta ma dove? dove? io sono cresciuto c'è una manifestazione che è il Vietnam no? il Vietnam ma molti non sanno neanche dove era ma il Vietnam era sud-est asiatico no? ma poi c'è stato altri Afghanistan Iraq Siria tante altre guerre tra nazioni dove qualcuno andava a portare la pace mitragliando, sparando la pace no? quindi la vera pace sei tu che cosa succede al tuo stomaco quando mangi certi cibi? quando respiri una certa qualità d'aria una certa qualità di sostanza aria acqua cibo che succede? perché la maggior parte delle persone va dal medico giustamente quando sta male e non ci sono dei governi che fanno corsi gratuiti per insegnare agli esseri umani la conoscenza del corpo e della mente io nei primi anni settanta su una rivista alternativa chiamata Re Nudo ho iniziato una rubrica la conoscenza alternativa del corpo e della mente ma perché l'avevo chiamata la conoscenza alternativa del corpo e della mente perché era alternativa a un'altra conoscenza che dice stai bene corri fa quello che ti pare bevi usa tutto quello che vuoi poi quando stai male va dal medico se stai malissimo subito vai pronto soccorso io cosa dicevo la conoscenza alternativa del corpo e della mente è studiare il proprio stile di vita e chiedersi cosa succede se respiro questa aria bevo questa acqua mangio questo cibo che ha coloranti conservanti che succede questo lo dicevo ai primi anni settanta cinquanta anni fa poi certi hanno messo addirittura come pubblicità sui prodotti non contiene coloranti ma allora gli altri è come il cibo biologico ma chi non scrive biologico che cos'è? industriale allora non scrive cibo industriale con coloranti conservanti questa carne viene da allevamenti industriali dove gli animali vengono dati ormoni della crescita antibiotici se non si ammalano e conservanti altrimenti si deteriora la carne non si può conservare io quando ero bambino c'era delle marche che non sto neanche a dire ma famose carne in scatola a me dicevo manca una parola quale parola la medicina carne morta in scatola manca la parola morta è come mettere un corpo morto in una bara e dire papà è lì la nonna è lì no il corpo cioè quando oramai il corpo è morto lo seppelliscono altri lo bruciano ma che la carne in scatola è morta è un dato di fatto però la parola morta molti non la mangiano io tante volte ho aiutato delle persone a smettere di mangiare i panini con la mortadella i panini con il prosciutto dicendo perché tu mangi il maiale morto col pane e mi dicevo eh ma sei scemo quale parola le prime reazioni poi adesso ci sono vegani vegetali ma le prime reazioni ma cosa dici io non mangio il maiale morto io dicevo col pane mangio la mortadella mangio la mortadella mangio la bresaola mangio il prosciutto io gioca sarà prosciutto cotto ma però è morto ho fatto passare l'appetito a migliaia di persone sono fiero contento ho fatto passare l'appetito dicendo come stanno le cose perché mangi il pane col maiale morto perché mangi le patatine col pollo morto vedevo la faccia quando dicevo pollo morto perché patatina va eh ma perché mangi le patatine col pollo morto io io ho conosciuto perché poi crescendo molti anche sono diventati vegetariani adesso si c'è vegani che non usano nessun prodotto eh animale no? però io non ho mai rifiutato inviti a pranzo a cena da quelli che mangiano la carne ecco di questo sono come dire eh mi faccio i complimenti perché perché altri dicono ah quello lì no se vai a casa sua quello mangia la carne vabbè io se mi invitava andavo e dicevo così no? con le manine ma è una cena silenziosa o si può parlare ma perché si può parlare siamo in un monastero dove c'è stato silentium che si pronuncia silenzium no no qui si può parlare beh io cominciavo io però avevo detto però a me non mi date carne e pesce ma vabbè per te abbiamo preparato delle cose poi durante la cena o il pranzo dicevo eh certo che eh che vedere dei pezzi di cadavere ti dicevo e dove sono? nel tuo piatto molti smettevano di mangiare ho rovinato la cena e i pranzi di tante persone certi non mi hanno più invitato ma molti sono diventati vegetariani quindi ho detto ma che succede? è questa ma che succede? succede che ti stai alimentando con delle carcasse di animale morto chiama la carcassa caronia cadavere corpo morto ti stai alimentando con un corpo morto quindi è utile tenersi informati sì ma attenzione a non entrare nel dualismo hanno ragione loro sono cattivi loro questi sono i buoni quelli cattivi quel dualismo la divisione c'è nello sport nell'economia nella politica nelle religioni sono quelli che si sono scontrati tutte e due le fazioni nel nome di Dio chiediti anche che succede nel tuo organismo non che succede nel mondo in Europa chiediti che succede nel tuo organismo chiediti cosa succede nel tuo cervello nella tua gola nel naso nella pelle nel fegato nel sangue quindi il messaggio è trattati bene trattati bene metti un filtro tra te e quello che entra è non credere alla propaganda se uno dovesse credere alla propaganda quando c'è la campagna elettorale bisognerebbe votarli tutti perché fanno dei bei manifesti dei belli tutti vogliamo per gli italiani la pace la libertà il benessere tutte parole belle non c'è nessuno non c'è uno che dice guardate io guadagno poco mandatevi in parlamento così c'è uno stipendio maggiore mi godo meglio e no quello no piglia voti i voti è siamo al tuo servizio per te noi curiamo i tuoi interessi ci sono dei partiti che usano la parola Italia come se noi non gli altri quelli che votano non hanno capito che siamo in Italia allora usano la parola Italia come per dire guarda che se tu voti me io faccio interesse in Italia tu sei in Italia poi tra l'altro in Italia non ci sono solo quelli nati in Italia ci sono anche altri che sono nati fuori dall'Italia ma poi siamo tutti nati sullo stesso pianeta siamo tutti esseri umani che facciamo parte di una umanità quindi informiamoci informati ma cerca le informazioni giuste mi auguro di averti invitato a scegliere un'informazione giusta e ti ringrazio per il fatto che guardi questo canale di Youtube non ci sono che poter un rielo non ci sono